salve buonasera a tutti seduta di fila in clima di avversione al rischio per i principali listini europei andiamo a vedere quali sono state appunto le chiusure partiamo dal dax che chiude a meno 1 virgola 20 per cento poi abbiamo l'ibex che si ferma intorno al mezzo punto percentuale ovvero è precisamente al 0,57 per cento poi abbiamo il cac che si che chiude anch'esso in passivo del meno 1,36 per cento fuzzi londra meno 1,48 per cento il quale ha subisce la peggiore performance della seduta odierna mentre invece il piazza affari riesce a mantenere la la sua posizione e riesce a chiudere intorno alla parità quindi non ci sono delle non ci non non è stato accompagnato quindi non segue più che altro le altre piazze finanziarie europee chiudendo a meno 0,14 per cento beh adesso andiamo a vedere invece che cosa ci ha offerto la giornata per quanto riguarda il contesto macroeconomico dal punto di vista quindi alla seduta inizia con la pubblicazione diversi dati inerenti al settore del pmi dei servizi si parte dal dato tedesco che si attesta a 53,3 punti in calo rispetto a 54 e 7 di ottobre a seguire il dato europeo anch'esso in calo passando dai 53 7 53 e 4 e poi quello della gran vetrania anch'esso in calo da a 50,4 punti rispetto a quello precedente che si era fermato a 52,2 punti nella zona euro invece poi dopo è stato rilasciato anche l'ultimo dato relativo alle vendite al dettaglio che hanno mostrato una crescita mensile dello 0,3 per cento ottobre a fronte della flessione dello 0,5 registrata nel mese di settembre su base annua il dato ha evidenziato invece un rialzo dell'1,7 dal precedente 0,3 per cento il mercato si attendeva un aumento mensile dello 0,3 e del 2 per cento su base annua molto interessante è stato oggi seguire anche la situazione che ha un po accompagnato gli ultimi twitter di donald trump quindi si ritorna un'altra volta in una situazione un po particolare per quanto riguarda i rapporti tra dei dazzi con la cina i rapporti commerciali dopo la tregua sui dazzi 90 giorni concordata con la controparte in occasione della riunione del g20 di buenos aires trump ha scritto stamattina con un twitter che ora aggiungeremo con la cina un vero accordo oppure non ci sarà proprio nessun accordo in quest'ultimo caso continui il post sui twitter imporremo importanti dazzi contro i prodotti cinesi che arrivano negli stati uniti alla fine credo che l'accordo ci sarà o ora oppure in futuro in un altro tweet trump ha aggiunto la cina non vuole le tariffe quindi questa è la situazione molto diciamo dobbiamo seguire quindi sarà un 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 fine anno un fine 2018 molto abbastanza esplosivo molto che questa situazione potrebbe influire molta volatilità sui sui prezzi soprattutto per quanto riguarda il dollaro americano bene adesso andiamo a vedere invece che cosa ci offre la giornata di domani domani giovedì 6 dicembre penultimo giorno del mese all'1.30 dall'Australia abbiamo le vendite al dettaglio mentre all'11.16 dal Canada abbiamo l'indice IVEI direttore degli acquisti del mese di novembre bene di seguito trovate i miei contatti facebook e poi il link per potervi iscrivervi alla diretta live beh adesso passiamo a guardare le principali principali movimenti in questo qua in per quanto riguarda l'euro dollaro oggi chiusura di wall street una chiusura straordinaria non essa non era contemplata nel nei calendari in quanto per poter commemorare la memoria del del presidente george bush quindi oggi ci sono stati i funerali quindi wall street chiusa è infatti la situazione vedete in questo momento abbiamo una volatilità ridotta all'osso per quanto riguarda il l'euro nel dollaro e si naviga intorno al pivose mensile 1.13 e 45 ovviamente la view al momento rimane sempre di stampo ribassista mentre invece andiamo a vedere andiamo a vedere anche quali sono state le forze andando ad analizzare soprattutto il il best and worst la nostro il nostro pannello di controllo bene in questo momento vedete abbiamo ancora una situazione che bene in ottica in 3 day vediamo che la sterlina dopo che ha spinto si è spinta stamattina ha avuto una decisa movimentazione al rialzista nel giro di pochissimo per diverse per alcune per alcune notizie che appunto non erano extra calendario macroeconomico però adesso quindi ritorna un'altra volta sotto pressione vedete meno 0,34 per cento in ottica oraria mentre invece abbiamo un dollaro 0,05 euro 0,13 dollaro australiano meno 0,29 bene questa è la situazione mentre invece per quanto riguarda il net change andiamo a vedere anche la situazione legata al net change non abbiamo delle confluenze interessanti un attimo che apro il net change eccolo qua allora praticamente non abbiamo delle confluenze interessanti abbiamo solo audio sd con una confluenza negativa continuiamo ad analizzare i grafici partendo appunto abbiamo visto euro dollaro adesso vogliamo vedere il dollaro yen allora per quanto riguarda il dollaro yen restiamo sempre all'interno di questa zona triangolare e quindi la situazione vedete anche se ci il prezzo resta sotto al pivo mensile ovvero a 113 è 34 però praticamente ci sono tutti questi alti e bassi che effettivamente non danno una indicazione ben precisa per quanto riguarda invece sterlina dollaro bene la sterlina dollaro abbiamo eccoci qua per quanto riguarda la sterlina dollaro bene sterlina dollaro siamo sell dopo questa movimentazione vedete che ha caratterizzato un po la prima parte della seduta classico movimento a doppio senso prima salita e poi disceso appunto è successo sia ieri che l'altro ieri e quindi al momento la view di fondo rimane prettamente ribassista poi per quanto riguarda le altre operazioni che abbiamo allora in particolare in particolare abbiamo stiamo seguendo allora dopo andiamo a vedere le operazioni lungo termine però abbiamo euro aud euro cad che anche se già stiamo siamo sell a mercato su tutte e due gli scenari però vedete per esempio su euro aud siamo arrivati a un punto molto interessante ovvero al 61 8 il prezzo si è fermato al 61 8 esattamente a 156 185 poi passa anche questa zona vedete una zona che molto interessante ho già settato la freccia siamo anche sotto ho messo quindi l'ho selezionato con la freccia siamo sempre sotto al piovo mensile quindi questa è una zona dove potrebbe rientrare dopo questa forte movimentazione a rialzo tutta anche una serie di indicazioni in arrivo dal dal dall'australe questa notte però praticamente questa situazione potrebbe ritornare questa fase di correzione siamo a quasi diciamo e questo è un livello delicato un livello che ci potrebbe indicare un ritorno all'interno del del trend di fondo la stessa situazione per euro cad euro cad la stessa situazione stiamo su r1 qui e quindi da qua potrebbe partire una eccola qui quasi vede bene vedete praticamente sto aspettando che il prezzo rientra o arriva tra i 78 88 e 6 o 61 8 però vedete abbiamo tanti massimi decrescenti quindi la situazione al momento è di puro stampo ribassista mentre invece per quanto riguarda le altre operazioni di lungo periodo abbiamo un gold che stiamo sui 100 punti gold che si mantiene sui 100 punti eccolo qua vedete abbiamo un'altra pin domani vediamo se riesce a rompere la resistenza r1 mensita 1240 e 49 nonché anche la zona questo doppio questo doppio massimo se lo riesce a superare ovvero se riesce a superare il livello 1241,325 per quanto riguarda invece l'altra operazione euro new zealand abbiamo perso qualcosa oggi una sessanta una sessantina di punti però restiamo ad 230 punti quindi a momento c'è questo 164 474 che funge proprio da base da copertura contro eventuali operazioni a rialzo effettivamente però questa è una situazione dove nel caso in cui il prezzo vada a superare 164 474 c'è la possibilità di una chiusura anticipata delle altre due operazioni per quanto riguarda invece gli indici siamo sell operazione che è partita nel pomeriggio sul sul dax eccola qua siamo sell sul dax abbiamo aspettato la fine della correzione per rientrare al mercato in questo momento stiamo a 30 punti bene per stasera è tutto grazie mille per l'attenzione ci aggiorniamo quindi domani mattina con la prossima la diretta live che sarà alle ore 8 e 30 buona serata a tutti